Passa veloce Passa veloce Passa veloce Passa veloce Passa veloce Passa veloce Ma che vuoi, ma che vuoi che sia stato, se non gli agenti d'occhiali? Scende la notte, ma al fine nessuno dorme, perché hanno paura degli agenti con gli occhiali? Ormai nessuno può restare tranquillo, hanno arrestato anche il noto banchiere. Ma perché, ma perché quegli agenti portano sempre gli occhiali? Stamattina all'uscita di scuola, io volevo comprare il pelato. Ma non c'era nemmeno il carretto, perché l'hanno arrestato il carretto. Hanno arrestato anche Gino e Salumiere, il nostro portinaio e tutti gli spazzini stanno facendo anche un giro di retate, alle stazioni e davanti agli asini. Ma perché, ma perché quegli agenti portano sempre gli occhiali? Ma qua sto aspettando che arrivi il mio turno, da quando hanno preso anche il mio confessore, il paracolo, il suore ed anche il tuo bellano. Ti aspettano, sono pronto, sono stanco di aspettare. Oramai, oramai, oramai l'ho capito perché hanno sempre gli occhiali. Sono piani speciali davvero, son di vento, temprato e scurito. Per vedere le piste più nere, per vedere le piste più nere. Per vedere i colpi di stato, gli squadristi, i tempisti, i fascisti. E' tutta una festa. Generali, colpisti, i fascisti, formagini, ombrella, i nazisti, bersaglieri, ciclisti, i fascisti. La, 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 la. Grazie.